salve a tutti amici di youtube oggi faremo video con la nostra lavabiancheria i sense goregne e useremo il programma peli di animali cioè animali ecco e ci laveremo le lenzuola allora intanto prima di mettere le lenzuola volevo sì ok allora mettiamo le nostre lenzuola ma oggi proveremo sì possiamo farlo sì sì scusate ma sto questo e questo quindi i detastivi che userò sono oggi faccio un altro tipo di il dank meat color questo l'aloe che ha un'ottima profumazione e ho ripreso perché mi sono piaciute ovviamente le le bio presto a roma therapy color all'orchidea ok ok bene questa è una caps quindi userò una caps di bio presto power caps aroma therapy color e stiamo caricando le nostre lenzuola colorate ovviamente ok 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 No, questa no, l'altra, ecco qua. Bene, chiudiamo l'oblò, bene, allora intanto posizioniamo la nostra luce, ecco qua, così, e ora andiamo su a vedere adesso il programma, beh, mi sa che non vedremo niente perché se non giustamente ho diventato un piccolo particolare, ragazzi, di inserire la spina, mamma mia. Adesso ci siamo. Allora... Ah, giusto. Stamattina si vede che ancora mi devo riprendere. Allora, tasto di accensione. Ok, e andiamo a impostare animali. Questo animali. Allora, ovviamente extra water, 1200 va benissimo, temperatura... 60 gradi, ok, perfetto, e io direi che siamo a posto. 2 ore e 2.20 va benissimo, sistemiamo un attimo bene, inquadratura, non inquadratura... Ok, possiamo dare il via alla festa. Adesso fa il calcolo del peso, ovviamente. Prima,pra. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Comunque dopo il calcolo della quantità di biancheria da due ore e venti è passata a due ore e due. Grazie a tutti. 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 Scarco acqua di filetre lavaggio e centrifuga intermedia. Grazie a tutti. 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 Allora lavaggio principale. Manca un'ora e 37 minuti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' già partita con la fase di riscaldamento. Grazie a tutti. 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 Siamo sempre nella fase di lavaggio. Con delle rotazioni più intensive. qui l'abbiamo Grazie. 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 Siamo quasi a 50 gradi. Grazie. 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 in effetti quando è arrivata a 55 minuti al termine del programma ha fermato il tempo finché non ha raggiunto la temperatura era arrivata a 50 gradi un concetto molto corretto perché giustamente devi raggiungere la temperatura e è giusto che faccia questi step non so se siete d'accordo o non d'accordo ma questo è il cooling down o meglio cool down qualcuno lo chiama cooling down cool down raffreddamento lisciva scarico acqua di fine lavaggio e centrifuga intermedia ok Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. 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 a tutti.